La prima questione, la mia risposta è noi non faremo accordi e non proponiamo accordi con altri partiti, accordi di vertice. Gualtieri a Roma, Lorusso a Torino, Russo a Trieste, parlo dei tre capologhi di regione, chiederanno e chiedono il voto ai diversi altri candidati che non si possono presentare al secondo turno perché non hanno passato il secondo turno e chiederanno il voto a loro. E cercheranno quindi di ottenere quel voto lì, senza accordi e le giunte che faremo saranno giunte che non saranno frutto di accordi, se vinceremo. Quindi il discorso di dire Calenda o Conte... Calenda e Conte possono stare nella sua larga coalizione, nel nuovo Livro? Non ho nessun dubbio che la mia risposta è sì, per me e io sarà quello che proporrò a tutti e due, ma ovviamente non lo proporrò domattina, perché domattina noi parleremo agli elettori di Conte, agli elettori di Calenda... Conte sono veramente tanti, ad esempio là c'è sia... Per chiedere di votare Gualtieri? Sia chi guarda a voi, sia chi guarda a voi...